Dopo l'ok della giunta ha ricevuto anche quello della commissione urbanistica e approderà nella seduta del consiglio comunale domani, venerdì 11 febbraio, la variante urbanistica da destinare al nuovo Palasport in zona Chiaruccia viene considerata strategica dal sindaco di Fano Massimo Seri con l'intento di riqualificare l'area che passa da una destinazione artigianale a sportiva. Il Palasport, fanno sapere dal comune, sarà innovativo, moderno e sostenibile, si estenderà su una superficie di 5.000 metri quadri e potrà ospitare 3.500 posti a sedere. A supporto ci saranno circa 1.000 stali di parcheggio accogliendo le necessità di fruizione di questo ambizioso e importante plesso. Sì, questo è un altro passaggio importante, è uno dei nostri obiettivi che ci siamo dati perché Fano ha bisogno di una infrastruttura importante come un palazzo dello sport vero che possa essere il luogo che ospita eventi sportivi importanti ma anche congressi eccetera che sono un aiuto anche all'economia. Ora il passaggio successivo è quello della progettazione, quindi l'obiettivo è quello di arrivare con una progettazione in tempi relativamente brevi, ovviamente parliamo di una opera complessa e poi quella dell'appalto con una volta reperite anche le risorse. Abbiamo già individuato alcuni canali di finanziamento, ovviamente io non so se riuscirò ad applicare fino in fondo tutta questa procedura ma sicuramente c'è un vassoio d'argento come si dice a chi verrà dopo per poterlo realizzare. Stessa zona, quindi Chiaruccia è quella prescelta per lo stadio? Abbiamo pensato tutta una zona, una cittadella dello sport, oggi partiamo con il palazzo dello sport, se domani ci sono le condizioni anche per lo stadio e ogni tanto ritorna in auge e abbiamo individuato l'area. Attesa soprattutto dai vigili del fuoco la nuova caserma, in questo caso è tutto fermo? In realtà non è tutto fermo, si è concluso tutto l'iter, l'azienda, la ditta che ha vinto l'appalto doveva essere già partita con il cantiere, con l'inizio lavori. Purtroppo questo fenomeno che ha causato i bonus, avendo fatto lievitare vistosamente i prezzi anche delle materie prime, hanno posto dei problemi di capitolato non più adeguato a quelli che sono i costi. Ed essendo un finanziamento ministeriale, ha precisato Seri, dobbiamo relazionarci con loro, il ministero ha già dato la disponibilità a riconoscere risorse aggiuntive. In questo momento la nostra dirigenza sta valutando di riconoscere le proposte avanzate per l'aumento dei costi. Secondo lei quali potrebbero essere le tempistiche? Io spero che in un mese, perché per quello che riguarda la valutazione nostra si fa in una settimana, quindi il problema non sussiste. Con il ministero quando si parla a Roma, sono 300 km di distanza, il rischio che magari le settimane siano più fitte, però immagino, non dico che sia una mera formalità, però ormai è un fatto riconosciuto che penso in un mese si possa risolvere tutto.